Ciao a tutti, oggi sono appena tornata dal lavoro, avrò delle occhiaie fino a qui perché mi sono addormentata a luna, mi sono svegliata alle 3.50, però fa lo stesso. Stavo temporeggiando un po' troppo nel, diciamo, procrastinare la messa in onda di questo video, però è giunto il momento. Questo è un video in collaborazione con la malignissima Tortella, ossia Eleonora di Miss Tortellino, perché è stata lei, diciamo, la fonte di ispirazione di questo video. Non solo per come ha parlato prima di questo argomento, ma anche solo per il semplice fatto di avermi detto guardalo e per avermi sopportata per, non so, forse un giorno e mezzo, a inviarle messaggi vocali lunghi come papiri, audiolibri praticamente, tutti più o meno con uno svalvolo dietro l'altro per le mie reazioni a, appunto, l'argomento che andiamo a trattare adesso. Oggi vorrei parlarvi del romanzo e della serie tv tratto dal medesimo romanzo, che è il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Allora, io avrei preferito fosse stata questa signora vincere il premio Nobel per la letteratura, però è passato a Ishiguro, però, insomma, ci sarà magari un momento. Peccato, peccato perché questa magnifica scrittrice ha tirato fuori dalla sua penna un qualcosa di indescrivibile. Io vi parlerò di entrambi i topic, cioè entrambe le versioni della stessa storia in questa sede, perché le due sono neanche troppo differenti. Insomma, la sola sostanziale differenza è che il romanzo dell'Atwood è stato pubblicato nel 1985, quindi è stato scritto una trentina di anni fa. E in effetti, anche dal punto di vista temporale, l'Atwood si è riferita al futuro, insomma, è un futuro diverso dal futuro che si mostra nella serie televisiva, anche perché nella serie televisiva credo che dia come ultima data sulla linea temporale il 2015, una cosa del genere, mentre qui è un futuro, sì, per l'Atwood, vissuta trent'anni fa, però non è un futuro attuale come quello di oggi. Per andare per gradi, questa è una storia ambientata in un mondo distopico, un mondo distopico, in cui è al potere un regime estremamente misogino e totalitario. Non ci sono dubbi che sia misogino e totalitario, oltre al fatto che la maggior parte delle persone che aderiscono a questo movimento e che prendono parte in modo volontario a questo regime sono dei grandissimi bigotti. Vabbè che ce ne sono probabilmente pochi che hanno scelto questa vita, la maggior parte delle persone che vive in questa società deve fare molta attenzione a se stesso, alle sue abitudini e a qualunque parola viene pronunciata, perché sono sotto controllo 24 ore su 24, in modo che nessuno possa trasgredire alle regole dettate da questo regime. Coloro che hanno, diciamo, fatto scatenare tutto questo movimento sono il comandante Fred Waterford e sua moglie Serena Joy. Sono due persone molto importanti in questo romanzo, nonostante non siano i protagonisti. Le nostre protagoniste sono le ancelle. In questo futuro la fertilità sia maschile che femminile si è ridotta praticamente all'osso e le donne realmente fertili sono cose, cose non persone, sono cose molto molto utili e preziose. Si possono rovinare ma non possono essere uccise. Sono oggetti usati solo allo scopo di fare da incubatrici viventi. La tecnologia, il progresso, la scienza che adesso in questo regime totalitario sono stati messi completamente al bando, tanto che anche alcuni preti, cosa molto strana, che non è considerata come scienza, insomma, l'essere religioso, però è una cosa molto strana, la cosa dei preti. Preti e medici, insieme ovviamente a tutti quei gruppi di persone che esonano un po' da quello che questa società bigotta reputa normale, vengono uccisi e appesi per il collo, contro tipo un muro della vergogna. Le nostre ancelle appunto sono utilizzate come incubatrici viventi. Loro hanno come unico scopo nella vita di dare figli a, diciamo, le coppie altolocate, coloro che non sono fertili ma che vogliono un'erede. Quindi praticamente tutte le famiglie borghesi di questo nuovo Stato che nasce, non vi ho detto, in una parte, in una zona dell'America, non molto lontano dal confine con il Canada, direi. È difficile anche soltanto raccontarvi questa storia, è molto complicato perché dal punto di vista emozionale, sensoriale, è anche proprio umano. Non è facile descrivere quello che mi ha dato sia dal punto di vista del libro, sia dal punto di vista della serie tv. Io reputo la serie televisiva molto più di impatto, nel senso che vedere quello che si legge in questo romanzo, ma proprio, diciamo, recitato da attore in carne ed ossa, ha un impatto, una potenza, almeno su me stessa, e sulle mie emozioni, sulle mie piagnosità, se potete permettermi questa parola un po' strana. Ha un impatto particolarmente distruttivo su di me. La nostra protagonista principale è Diffreed, Offred in inglese, io l'ho vista tutta in lingua originale. Comunque, Diffred, o Diffred, dipende da come si vuole pronunciarlo, è la nostra ancella. È l'ancella che seguiamo durante tutto il romanzo, ed è quell'ancella che non riesce a abituarsi a questa vita. Deve farci i conti, deve continuare a tenere duro, serrare i denti, stringere veramente tutto quello che può per contenersi, per non urlare, per non strepitare, per non tentare di ammazzarsi, solo perché deve rimanere in vita, perché sa che sua figlia è da qualche parte in questo nuovo paese costruito, insomma, questo nuovo regime. E quindi lei ha una motivazione per rimanere in visa. Lei appunto è Diffred, Diffred, ossia appartiene a Fred. E guarda caso, il signor Waterford si chiama proprio Fred. La cosa bruttissima di questa storia è che ci sono, anche se sono nascosti, glissati, raccontati come se fosse solo un contorno alla vicenda, ci sono tanti di quegli elementi disturbanti, perché secondo me questa cosa del Diffred è molto disturbante, cioè non è come il patronimico usato in russo, cioè di figlia, di marito, moglie, già aspetta, dicono figlia, di, sposa, di, tipo dovrebbe essere, che ne so, Irina Pavlov-Alexandreva, una roba, o Pavlovna-Alexandreva, insomma, sono patronimici che derivano dal padre e dal marito, ma non indicano una possessione fisica. In questo caso Diffred indica il fatto che queste ragazze non hanno neanche più il diritto ad avere il loro nome, non hanno alcun diritto, nessuno. Non hanno il diritto di leggere, non hanno il diritto di girare per strada da sole, devono sempre andare in giro in coppia, non hanno alcuna voce in capitolo su come chiamare il nascitore una volta che sarà nato, anche se sono loro a portarlo in grembo in effetti, e non hanno alcun diritto. Niente. Non si possono, diciamo, non c'è neanche più, non c'è nessun tipo di diritto. Cioè, se loro fanno passeggiate più lunghe per tornare dalla spesa, vengono controllate perché potrebbe esserci qualcosa di losco. Non possono chiacchierare tra di loro senza aver paura di essere controllate da questo strano, diciamo, ente di questa organizzazione tipo polizia segreta che si chiama L'Occhio, che controlla un po' tutta, diciamo, questa società anche, controlla questa società anche, coloro che la governano. Quindi è una cosa un po' esterna al governo in sé. Comunque, è un mondo strutturato molto finemente, nel senso che ci sono tantissimi elementi che te lo strutturano, e per parlarne, insomma, ci vorrebbe molto più tempo di quanto io senta di avere a disposizione in questo video. Insomma, non posso farvi un video di un'ora, anche se mi piacerebbe moltissimo. E la nostra D-Fred, ovviamente, è stata assegnata alla famiglia Waterford per, appunto, restare incinta, e dare alla luce il figlio dei Waterford, non il suo, il figlio dei Waterford. La cosa brutta. Una delle cose brutte, ce ne sono un sacco, scusatemi, una delle cose brutte è che, nonostante la tecnologia permetta la fecondazione in vitro e poi dopo, insomma, l'inserimento dell'ovulo nell'utero, insomma, della portatrice, insomma, dell'incubatrice vivente, loro fanno tutto basandosi su un versetto delle Sacre Scritture. Quello in cui viene detto che, oh mio Dio, Rachele era sterile. Tanto anche sterile è una parola proibita sia per le donne che per gli uomini. Però, vabbè, chiusa per entesi. Rachele era sterile e dice al marito prendi la mia schiava, accoppiati con lei e lei partorerà sulle mie ginocchia nostro figlio. Una cosa del genere. Ho paragrafato, ho paragrafato, ho paragrafato, ho parafrasato, ma glielo non riesco neanche a parlare. Ok, ho parafrasato, ovviamente, però è una cosa atroce. Soprattutto nel momento in cui Janine, una di queste ancelle che ovviamente non si chiama Janine, si chiama tipo di Warren, credo, Janine resta incinta. Janine partorisce la bambina, ma come funziona? Si vede questa scena molto particolare di due parti differenti. Uno reale, che è quello della nostra ancella, e uno finto, che è quello della futura mamma. Cioè, la donna sterile fa finta nel momento in cui iniziano le doglie alla sua ancella di averle lei stessa e le sue amiche attorno le fanno la scenetta come se lei fosse davvero nell'atto del partorire, insomma, ed è bruttissima l'immagine che ho avuto di questa donna che cioè faccio anche fatica a dirvelo perché è veramente bruttissima cioè lei finge finge di partorire e quando è proprio il momento in cui Janine si mette a spingere insomma per effettivamente far uscire la bimba lei ci si mette dietro e questa effettivamente partorisce sulle sue ginocchia ma questo è niente questo è niente anche perché l'atto del concepimento in questa società è anche questo legato ad una scrittura si svolge attraverso questa cerimonia che comprende la moglie il marito e l'ancella la moglie si siede sul letto l'ancella si stende in mezzo alle sue gambe e il marito fa quello che deve fare per metterla incinta ho la pelle d'oca solo a pensarci una cioè che ci siano davvero nel mondo dei fanatici religiosi che potrebbero arrivare a tanto se la situazione lo richiedesse la cosa è spaventosa la cosa è spaventosa non tanto il pensiero che potrebbe succedere perché mi sembra forse un po' eccessivo per quanto riguarda la nostra società attuale ma mi viene da pensare che ci sono comunque paesi in cui i diritti della donna non esistono e questo è spaventoso perché molte di queste cose anche se non proprio nella maniera in cui sono state raccontate in questo romanzo sono ancora reali non il fatto che l'ancella debba partorire però le donne senza alcuna voce in capitolo senza diritto senza alcun diritto in queste società assolutamente misogene e maschiliste che fan paura comunque leggendo questo romanzo forse non ho avuto lo stesso impatto che mi ha dato la serie televisiva intanto è una serie televisiva nuovissima del 2017 che prende in esame tutto l'intero romanzo della Atwood è interpretato da degli attori meravigliosi prima di tutto sinceramente la Elizabeth Moss un'attrice pazzesca che io non avrei mai mai considerato come tale perché i suoi ruoli a parte in alcune serie televisive non sono mai stati ruoli particolarmente diciamo incisivi però in questo caso ha tirato fuori una interpretazione di Diffred così meravigliosa che non passava veramente non passava episodio senza che io piangessi la migliore amica o la compagna di Diffred la Ancellans diciamo che è stata assegnata a lei è interpretata dalla mia amatissima Alexis Bledel cioè meravigliosa dimostra tutta la sua bravura tutta la sua età e si è scrostata diciamo di dosso il ruolo di Rory Gilmore che per quanto io ami vederglielo addosso le cominciava cioè cominciava a starlo un po' stretto e le ha dato la possibilità di mostrare il suo talento un talento veramente eccellente con un'espressività impressionante veramente da brivido mi immagino ancora molte delle sue scene con questi due occhioni blu spersi nel vuoto sarà che io sono un po' di parte perché l'ho sempre amata moltissimo però l'ho trovata veramente deliziosa in alcuni momenti e magnifica in altri veramente fantastica il nostro comandante Waterford è Joseph Finn è un attore che io mi dicevo ma io l'ho già visto questo io l'ho già visto ecco ma se io l'ho visto vi ricordate Shakespeare in Love quel film con quell'attore bellissimo giovane che sembrava un po' assomiglia un po' a Capitano Uncino di Once Upon a Time diciamo come verve come stile d'uomo e invece era il nostro Shakespeare di Shakespeare in Love ovviamente che insomma ha condiviso la scena con Gwyneth Paltrow in quella particolare occasione film che io ho in DVD che amo particolarmente perché si è bellissimo e poi una bellissima 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 Poussey se io dico Poussey chi vi viene in mente l'attrice credo si chiami Samira Winley 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 faccio fatica a ricordarmi comunque è la nostra meravigliosa Poussey di Orange is the New Black un'altra attrice eccelsa meravigliosa che io pensavo facesse una fine becce invece quella che fa la fine migliore per una volta ok forse questo era spoiler per Orange is the New Black sorry me vabbè comunque un cast molto interessante che interagisce in maniera veramente magnifica creando un'opera vazzesca di grande valore e che mi ha lasciata molto scossa mi piacerebbe riuscire a mettervi gli audio dei miei dei miei commenti fatti a Eleonora e sinceramente secondo me il commento a caldo era quello che serviva per questo video però ho dovuto rifletterci un po' e ho dovuto terminare il libro perché nel momento stesso in cui ho terminato la serie televisiva che mi ha preso credo un giorno e mezzo neanche sono dieci episodi da tra i 45 e i 60 minuti l'uno quindi non è niente male come lunghezza insomma una volta terminati gli episodi mi sono buttata a pesce sulla sulla lettura del libro perché non non potevo esimermi dal farlo entrambi sono molto molto scorrevoli la Atwood nonostante l'abbia scritto 30 anni fa con la mentalità di una donna adulta ha saputo scrivere in modo intelligentemente fluido secondo me perché racconta molto descrive molto però non è mai pesante c'è sempre qualcosa una punta di ironia un pensiero vago della nostra Diffred o Diffred io la chiamo Diffred perché Diffred Offred vabbè insomma Offred lasciamo stare comunque qualche commento fuori campo qualche pensiero perché ovviamente è narrato in prima persona da Diffred e quindi siamo un po' come nella sua testa ed è una cosa che mi piace molto vedere il suo pensiero il pensiero di un essere che non ha diritto alla parola è bellissimo perché lei pensa a tutto quello che vorrebbe dire ma non lo può ovviamente esternare è molto potente è un romanzo molto potente è una storia molto potente che almeno le donne dovrebbero leggere però lo farei leggere anche ai maschietti tanto per fargli capire che calvario potrebbe essere per le donne perché gli uomini sono sempre stati molto bravi a sottometterci non so perché non siamo il sesso debole non lo siamo mai stati però ci sono sempre riusciti forse perché la forza fisica non è corrispondente alla loro però questo non vuole essere un discorso sul femminismo non è non è questa la sede anche se il romanzo ne parla io volevo soltanto esprimermi esprimermi su un argomento che mi ha toccata moltissimo e su una storia che mi è entrata dentro in una maniera così intensa e profonda che non lo so penso sia diventata una delle storie che preferisco anche se terrificante anche se spaventosa perché è proprio spaventosa però è qualcosa di incredibile quindi se non l'avete letto io ve lo consiglio la serie televisiva anche quella ragazzi è veramente qualcosa di eccelso splendido andate a dargli un'occhiata se non l'avete visto fatelo per cortesia perché è davvero qualcosa di molto molto bello io l'ho proposto al mio miglior amico e a mia madre il mio miglior amico Jill praticamente è uscito di testa è uscito di testa e adesso stiamo aspettando con ansia la seconda stagione perché sì non so come sia successo credo che la Atwood abbia fatto un pochino come poi ha fatto Martin per il trono di spade credo che abbia dato una traccia ai realizzatori della serie televisiva per un possibile seguito quindi aspettiamo con ansia nel 2018 l'uscita della seconda stagione e io non vedo l'ora di vedere che cosa succederà che cosa si sono inventati nonostante questo romanzo mi abbia soddisfatta per la storia così come anche se diciamo che il finale è molto aperto comunque fatemi sapere che cosa ne pensate andate a vedere il video corrispondente al mio sul canale di Mr. Tellino è una di quelle persone che parla molto intelligentemente dei suoi libri e cioè dei suoi libri dei libri che legge delle serie tv e penso che avrà forse un pochino più di cognizione di causa nel parlare di una cosa del genere sapete che io sono una molto schietta non mi faccio scalette non mi faccio proprio niente ogni tanto mi perdo mi impappino e cose del genere però insomma spero che vada bene lo stesso trovo che invece Leonora potrebbe magari farvi comprendere in maniera più chiara quello che io vi ho appena raccontato argomentandolo magari in modo diverso quindi io sono felicissima di aver fatto finalmente questo video e noi ci vediamo molto presto con tanti altri nuovi ciao grazie a tutti